Albano è attanagliato da un turbinio di emozioni profonde e struggenti, catapultato in uno stato di tristezza e commozione senza fine. Prima di continuare con questo video, ci tentiamo a ricordarvi di supportare il canale cliccando sul tasto iscriviti e lasciando un mi piace a questo video se vi è piaciuto, grazie per il vostro supporto. Il fulmine a ciel sereno è giunto con la sconvolgente rivelazione di Romina Power. Il cuore dell'artista italiano è stato dilaniato da un tradimento che si consumò nel lontano 1998, un segreto tenuto nascosto per più di due decenni. Romina Power, celebre cantante e sua ex moglie, ha finalmente deciso di gettare luce su quel tradimento terribile che ha scosso le fondamenta della loro relazione. L'anima di Albano è stata scossa al suo nucleo dalla notizia che Romina aveva avuto una relazione con un cantante di fama dell'epoca. Questa rivelazione ha fatto tremare profondamente la sua fiducia, facendo riemergere emozioni dolorose che aveva cercato in vano di sopprimere per anni. La notizia di un tradimento avvenuto così tanto tempo fa ha gettato una nuova luce sulla loro storia d'amore, spesso al centro dell'attenzione pubblica. Albano si trova ora a dover fare i conti con questa rivelazione dolorosa, a cercare di elaborarla emotivamente. Questo segreto, finalmente svelato, ha portato una tristezza profonda nella vita dell'artista, che affronta questo momento di grande fragilità e vulnerabilità con coraggio. Ci tentiamo a ricordarvi di supportare il canale cliccando sul tasto iscriviti e lasciando un mi piace a questo video se vi è piaciuto. Grazie per il vostro supporto.